L'onorevole Mario Tassone e il sindaco di Bagalà di Federico Curatola. Onorevole, arte e cultura possono davvero essere un tocca sana per questi, non chiamiamoli paesini, ma per questi borghi antichi, soprattutto di quest'area, di quest'area grecanica? Certamente sono un dato, un aspetto determinante per una comunità, ma da solo non basta, bisogna che ci sia la volontà e la disponibilità perché dell'arte e della cultura si faccia riferimento. E l'arte e la cultura è anche il modo con cui ci si approccia alle grandi questioni, ai grandi temi che riguardano l'uomo, la sua degnità, la sua affermazione. Non è che la disponibilità e la volontà non facciano parte della cultura, fanno parte della cultura. Se non c'è versatilità, se non c'è sensibilità non può nascere né cultura né arte. Allora ci deve essere una presa di coscienza da parte della comunità e ricordare che gli aspetti che riguardano la nostra storia, non solo semplicemente da ricordare in astratto, in termini freddi, c'è bisogno che essi siano vissuti, altrimenti tutte le imbarchiamo nello scontato, nello stantio. Facciamo un grande museo, guardiamo il museo, ci compiacciamo di quello che è stato in passato, ma poi dal passato non troviamo nessuna lezione. Invece se al passato siamo disponibili a trarre lezioni, anche risposte a quelle che sono le inquietudini del presente, io ritengo che l'arte e la cultura che vivono in fondo nell'uomo diventano una realtà, si attualizzano e si storicizzano. Questo credo che sia la grande risposta che questa calabria può dare in questo particolare momento. Ecco, lei nel suo intervento ha sottolineato come sia l'arte che la cultura e tante altre cose vadano a richiamare in maniera sempre più forte il senso della democrazia. Sì, il senso della democrazia. Io sono convinto che noi abbiamo difficoltà in questo momento a coinvolgere la gente, a far partecipare la gente. Forse in un sistema politico ci siamo illusi che con una realtà di leader si potessero risolvere i problemi. Si è leader se c'è ovviamente il coinvolgimento, se c'è il riscontro e il riconoscimento della gente. Si è leader carismatici se la gente ti accoglie, ma non ti accoglie perché ti ha affidato i suoi destini. E la cosa più facile è questa, ma credo che sia anche molto perniciosa, molto negativa. Ecco, evitare di pensare e affidarsi a un uomo solo. E credo che questo sia una fuga dalla responsabilità. Invece una comunità di uomini liberi, una piena democrazia, ognuno deve fare la propria parte e non affidarsi a uno solo. Il salvatore della patria, di eroe, non ha bisogno il paese. E quando si è affidato ad un eroe o un salvatore, non è stato né eroe né salvatore. Mi riferisco ovviamente al passato. Ecco, per il giovane sindaco di Bagalà di Federico Curato, il passaggio di testimone è stato un passaggio abbastanza travagliato, però ha dimostrato in questo anno di sua amministrazione comunque in ogni caso di saperci fare, comunque in ogni caso di essere un leader per tornare a quello che ha detto l'onorevole Mario Tassone. Beh, diciamo che magari in una comunità piccola come questa di Bagalà di coinvolgere i cittadini, convincerli a tirar fuori quell'entusiasmo sopito per realizzare qualcosa di positivo, è molto più semplice che farlo in un ambito nazionale. È molto più semplice, in una piccola comunità glielo posso garantire. Per quanto riguarda la giornata odierna, io sono veramente felice, sono felice di come stanno andando le cose, sono felice di avere restituito ai cittadini e al pubblico un bene comune, perché un edificio pubblico, un edificio comunale è sicuramente un edificio di tutti. E quindi oggi è di Aurelia Nania, di Titti Romeo, di Piero Perpiglia, di Piero Giglione, che espongono le loro opere. Da domani sarà di qualcun altro che vorrà usufruirne per fare sempre cultura, per fare sempre società, perché noi abbiamo bisogno, come diceva l'onorevole Tessone, di mettere insieme le parti buone della società, le parti positive della nostra comunità, per rilanciare il nostro territorio, soprattutto le aree montane, che negli ultimi lustri hanno subito attacchi e vessazioni da più parti, ma che siamo proprio noi, popolazioni delle aree interne, che dobbiamo cominciare a difendere a denti stretti. Ecco, ricordiamo che la mostra rimarrà aperta tutto il mese, da che ora a che ora? La mostra rimarrà aperta fino al 21, fino alle conclusioni delle festività della Madonna del Monte Carmelo, che è la nostra festività più importante, non è la nostra padrona, il nostro padrone è il Santo Odoro, e quindi la mostra sarà aperta fino al giorno 21 agosto, dalle ore 18 alle ore 24. Ecco, un plauso lo dobbiamo fare all'onorevole Mario Tessone, perché il 5 d'agosto venire a Bacalati non è facile già per un turista, figuriamoci per un politico. Assolutamente, io ho avuto modo di ringraziarlo già nell'intervento mio, e questo vuol dire che non tutti i politici sono uguali. No, no, non è questo, io devo ringraziare il sindaco, lo faccio sinceramente, Filippo Alicuo, che è poi il presidente dell'associazione, io sono su anche sulle citazioni, ovviamente gli artisti, poi c'è stato il presidente del parco, c'è il comandante della compagnia di merito Portosalvo, questo è importante, ma poi debbano ringraziare la comunità. Voi avete visto con quanta attenzione ha seguito, in queste realtà, in questi luoghi montani si trova l'autenticità del calabrese, con una grande umiltà, senza supponenza, senza alterigia, ma con umiltà, ecco, la gente che aspetta e che crede in qualcosa, e se noi facessimo svanire ancora tutto questo, anche questo residuale di fede che c'è di fiducia, sarebbe anche un delitto, ecco perché è importante questa iniziativa, ci sono tanti cari amici miei, c'è Lucia, ma ci sono tanti cari amici che ho incontrato, che non vedevo da qualche tempo, ecco, si ricompone un tessuto sociale di questa Calabria, un punto interrogativo, noi ce la mettiamo tutta, loro ce la stanno mettendo tutta, speriamo bene, e credo che la stampa, chi usa il mass medio, come vi so dire, può fare un buon lavoro e può essere di stimolo e svolgere una funzione sociale significativa, determinante e imprescindibile, in un sistema di vera democrazia, non formale ma sostanziale. Grazie.